Ciao da Absim! Ah, clamoroso! Che cos'è la vita? Che cos'è il calcio? Che cos'è il calcio? Voi mi vedete che sorrido. Sorrido anche in maniera un po' isterica, perché sono incredulo. Però onestamente sorrido anche perché sto un po' godicchiando. Voi mi direte, ma come fai a godere contro Buffon? Come fai ad essere felice per questa sua disfatta umana, oltre che professionale? Ma infatti mi dispiace, infatti profondamente in realtà mi dispiace. Ma in che senso mi dispiace? Mi dispiace per la sua stupidità, per i suoi limiti mentali e caratteriali che lo hanno portato in questo baratro. Cioè lui se l'è cercata, se l'è cercata ragazzi, perché io che Buffon dovesse ritirarsi, lo dico dal 2017, non solo dalla fine della scorsa stagione e quindi 2018, Buffon doveva ritirarsi. Non era più il suo tempo. Gigi, per te, era finita. Quando le cose finiscono non devi mantenerle in coma. Quando una cosa muore, muore. Basta. Finisce lì. Non puoi reiterare e insistere. È quello che hai fatto. E adesso che cosa ti ritrovi? Un'eliminazione peggiore di quella dell'anno scorso? Ma con la stessa dinamica. E questa è la cosa clamorosa. Con, in aggiunta, il fatto che a differenza del quarto di finale col Real l'anno scorso, tu non avevi colpe. Non avevi colpe perché lì non avevi fatto nulla di male. Anzi, 3-0, vai a prendere il 3-1 su un rigore che tra l'altro non pari neppure tu. Non pari neppure tu, ma assisti praticamente da spettatore facendoti espellere. Questa volta invece hai avuto anche l'opportunità di intervenire in positivo per salvare il risultato. Ma non ti è stato concesso. E attenzione, non è che non sei stato capace. Non ti è stato concesso. Perché certe cose succedono se devono succedere. Altrimenti non succedono. E allora la tua ostinazione di piegare la vita, di piegare la realtà alle tue sensazioni, al tuo volere, come se fossimo in un dannato gioco. Come se tutto fosse alla nostra disponibilità. Voglio fare una cosa, prendo e la faccio. Non funziona così. E questo ti si è ritorto contro. Perché tu non sei stato in grado di parare quel rigore, ma ripeto, non ti è stato concesso di pararlo. Perché se il destino fosse stato dalla tua parte, se tu avessi avuto ragione, nella tua scelta, di insistere e continuare a giocare, in questa dannata ricerca della gloria personale nel vincere la Champions League, beh, tu quel rigore l'avresti parato anche con un dito solo, anche andando a toglierlo da sotto la traversa. Anche con un miracolo. Invece non l'hai preso e non l'avresti preso mai. Se rigiochi questa partita cento volte, tu quel rigore non lo pari mai. Ma aggiungo, ripeto, rispetto al quarto finale dell'anno scorso, che tu sei stato anche determinante in negativo, perché hai fatto una papera per far fare il secondo gol a Lukaku. Hai fatto una papera clamorosa. Questa dimostrazione che tu sei nel posto sbagliato, sei l'uomo sbagliato nel posto sbagliato. Hai scelto la vita sbagliata. Ti sei messo in una condizione che non ti appartiene. E non l'hai capito. Hai cazzo 40 anni e ragioni come un diciassettenne. Sei immaturo, dannazione. Ma ti ripeto, io te lo dico quasi da fratello minore che ha capito qualcosa in più di te. Non che ho capito veramente qualcosa in più di te. Fai conto che siamo due fratelli e io credo di aver imparato qualcosa in più e ti vengo a dire, guarda, caro fratellone, guarda, caro fratellone, che ti stai sbagliando. Ed è con questo atteggiamento che te lo dico. Ripeto, un po' mi fa anche piacere perché sarebbe stato ingiusto e ingeneroso che tu riuscissi a vincere in questa tua battaglia contro il tempo. Il tempo non lo batti. Non lo ammazzi. Tutte le cose che sono questioni di tempo restano questioni di tempo. Non puoi stravolgere. Non puoi stravolgere le cose. E allora sarebbe stato ingiusto che tu ci riuscissi. Quindi da questo punto di vista a me fa piacere questa Nemesi perché te la sei cercata e te la sei meritata e ti doveva assolutamente andare così. Non doveva andare in nessun altro modo. Quindi per quello che so, per quello che è l'ordine cosmico, io sono felice. E sono anche felice come Juventino perché sinceramente mi avrebbe dato un enorme fastidio vederti vincere la Champions League ed esultare prendendoti la gloria individuale per una cosa che era un obiettivo che tu dovevi raggiungere con la maglia della Juventus addosso. Non con un'altra maglia. Non ci sei riuscito con la maglia della Juve? Bene, fine. Amen. Io ti ricordo una persona ti ricordo una persona caro Gigi che si chiama Pavel e tu la conosci benissimo perché siete stati talmente tanto amici e forse lo siete ancora che tra l'altro fu lui ad avvicinarti a tua moglie la cara Alena Seredova che a quanto si dice hai tradito senza neanche dirglielo e hai lasciato senza neanche dirglielo di persona. Ma non entro in queste cose che sono gossip e sono personali e non mi interessano. Perché ti cito il caro Pavel? Perché il caro Pavel Nedved che tu ben conosci a un certo punto gli è stato detto caro Pavel vuoi venire all'Inter a vincere la Champions League? E il caro Pavel Nedved ha detto col cazzo io sono bianconero nell'anima e morirò bianconero l'ultimo minuto col pallone tra i piedi io lo disputerò con la maglia bianconera addosso. Che cosa ha ottenuto Pavel Nedved? Che la Champions non l'ha vinta. E sai che cosa ha fatto quando si è reso conto che non ce la faceva più? ha smesso si è ritirato quello che non sei stato in grado di fare tu allora adesso ritirati Gigi basta adesso prendi butta sti cazzo di guanti e vattene a casa vattene a casa non se ne può più ma davvero ma ancora vuoi continuare a renderti ti rendi conto che ti sei reso ridicolo davanti a tutto l'universo? Cosa devono dire adesso? Che ragione c'era? Che motivo c'era che tu dovessi insistere e continuare a fare questo? nessuna vedi? Perché se ci fosse stata una sola ragione per cui fosse stato giusto che tu continuassi a giocare a calcio avresti parato quel rigore l'hai parato? No quindi vedi tra l'altro voglio dire un'altra cosa brevemente sulla partita perché insomma chiaramente si riduce tutto a buffon il Manchester United ha fatto una cosa che non era mai successa nella storia ha ribaltato in Champions un 2-0 fuori casa aveva preso il 2-0 in casa cioè il 2-0 fuori casa del PSG all'andata l'ha ribaltato clamorosamente con questo rigore che tra l'altro è sacrosanto perché Kim Ben-Ve salta col braccio largo guardando il pallone lo tiene largo per prenderlo con la mano col braccio e lo prende col braccio e quindi il rigore non capisco perché si discutesse sul fatto che fosse rigore o meno fosse stato io l'arbitro guardando le immagini al VAR non avendolo visto in presa diretta avrei dato rigore senza neanche pensarci quindi rigore netto mi fa ridere poi anche Neymar che prima mastica nervosamente in tribuna poi scende tutto nervoso replicando Sergio Ramos a dimostrazione a dimostrazione che non è diciamo il come si dice il bullo di turno che sta dalla parte giusta perché Sergio Ramos l'anno scorso da squalificato in realtà Neymar in questo caso era solo infortunato ma comunque Sergio Ramos da spettatore non pagante in tribuna scese giù e poi la vinse Neymar è sceso giù e poi l'ha persa con Buffon dalla sua parte quindi o è Buffon che praticamente sposta le cose e porta sfiga oppure evidentemente ci sono tutta una serie di cose da tenere in considerazione ripeto poi d'altra parte la partita è stata veramente ridicola in che senso nel senso che il Manchester United non ha fatto nulla il Manchester United non ha fatto nulla per carità ha anche sofferto bene ha anche saputo soffrire va dato merito al Manchester United che ha saputo soffrire che ha fatto un'ottima partita da questo punto di vista però non ha creato aveva l'alibi dei tanti assenti tante assenze nel Manchester United soprattutto Paul Pogba però non basta comunque secondo me poteva fare di più anzi è stato fin troppo fortunato a fare due gol devo dire ma d'altra parte va detto anche va detto anche che il Paris Saint Germain con un'enormità di possesso palla con un'infinità di passaggi è clamoroso che non sia riuscito a fare un altro gol è clamoroso che non sia riuscito a fare un altro gol ed è vergognoso da questo punto di vista non capisco anche perché Cavani sia rimasto in panchina così a lungo se c'era questa difficoltà di segnare sinceramente quindi ci sono tutti tutti i discorsi da fare su questa partita clamorosa e aggiungo anche che secondo me l'arbitro doveva fischiare prima che non si è capito quanti minuti di recupero aggiuntivi aveva deciso di dare ma comunque è andata così ditemi come la pensate credo che dopo ieri con l'Ajax stasera altra serata memorabile la storia del calcio e allora ci vediamo nei commenti grazie per aver guardato spero vi sia piaciuto questo video e niente insomma sorrido ancora a presto e sempre forza Juve grazie a tutti